Il terzo fattore secondo me che sblocca un ulteriore livello di efficienza è il fatto che i veicoli possano cedere a loro volta l'energia alla casa piuttosto che alla rete, perché chiaramente nel momento in cui diventano milioni di veicoli elettrici diffusi che costantemente caricano in giro per il mondo, sperando da energie rinnovabili, l'ideale sarebbe che gli stessi veicoli possano cedere l'energia anche alla rete per compensare i momenti di picco piuttosto che alla casa per evitare che vada… Certo, quando sono fermi possono svolgere perfettamente questa funzione di buffer, di batteria come fosse una batteria stazionaria e questo può essere tra l'altro programmato nei limiti dell'utilizzo dell'utente, se io so che il giorno dopo non userò la macchina posso rendere disponibile quasi tutto il contenuto della batteria. Grazie